Non so già il bandino Si è allattata Eh lo fanno presa dire Ma vai perchè incendio dopo Si può non mettere il caderno Si può non mettere il caderno Se ci si mette il caderno Se lo dò non lo deve cair via per cattare qua Il mortaccio Porca Dio 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 Si ma ci mette per le montagne La ruta la scena in questo tipo Porco tu Ma aspetta ma magari fosse brutta galleria Guarda un attimo che finisce la galleria che succede No Qua sono 3-4 giorni che non ci passano in giù Ma sicuro? Qua sono 3-4 giorni che ci passano in giù Questa è che non l'avevo mai proprio fatto io Ma che è il cazzo appena? No ma piemo la... Si piemo la ceppa del cazzo Ma che è il asfalto che è grigio? No ma qui è passato il palanello Si In mezzo si Eh Ogni 8-8 ore mi sa che ti va passare Ma che fa? Una sbotta se mi metti ecco passa Ci si mette molto dietro Non mi metto in suggestione sto Ammi che cingilla Mi chiamano questa dipendina Guarda che cazzo che parte qua la pescara La pescara da paura oh ma che... Ma quando ce lo passa questa minacca Guarda una affanculo ma che non vuole passare? Guarda che cazzo te li ha Guarda per te Guarda per te la cosa ci sei da re C'è c'è qualcuno che non la conosce Si si ma poi ci chiamano Dicino guarda e noi sono appicciato la cammino Ho capito? Poi qua le 6-7 nemmo arrivare per urdini Per primi a picciare la cammino Invece riemo c'è tutto che ha fatto Si è più veloce che stai Visto te la andiamo via più veloce Si si Ma ancora continui a parlare Senti è convinto Perché è tutto ritto Ho capito? Ho capito? Poi se passiamo del vetto nemmo da mettere le catene Pina E invece qua se me la parla Ma qua invece stai in avvado eh Noi lo rampaghiamoissimo Gli sarai chiedendo tantissimo A scegliere di gelano Vediamo che fanno Dio oh oh Non fa la neve Visto porco di oggi Lo spalane... Aiuto Ferma chissu Come c'è la porca PORC Se dice ci sono una spalla Ragazzi che tonpeano una porca Qua non ci passa questo? Ma ci rimane una spalla su chissu Lui diceva Vieni la stessa spalla su andarvi Ma perchè staspetto e le leviamo qua non ci passa Eh si Io invevo Ma quina non ci passa Il palancullo Deviamo andare a cadere Io chiedi che ci han perdere dire che cazzo stai attaccare ferma le piste te li fa passare davanti che attacchi porco oddio porco vanno qua su si vanno in freno va di sopra va guarda dentro si sta un bigliettino eccolo eccolo vedi il disegno allora vedi il disegno attacchi il filetto che è sopra eccolo questo lo devi attaccare sopra porco si però vedi come è già messo sotto la gomma no 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 vabbè 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 ok attacca questo filetto vedi questa qua ti faccio un po' di città mi passo più volte ma tanto ti tocca montare quindi stiamo tranquilli e montiamo su questo ma dove lo tocca che gli stacassi lo cucino di Dio io per me te lo cucino di Dio ahahahahahahah che messaggio vabbè 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 guarda qua non ci si vede un cazzo se vedi la neve frate non sanno pure i lumi che stanno devo fare il bagno io a te a G non c'è ahahahahahahah questo è nevole se vede un parmo io mi sanno c'era giusto quella volta a rete salpa era così brutto non c'ho mai scegato così del merda ci aveva portato uno Loris forse ci aveva portato Loris eravamo grezzi proprio a destra a sinistra e proprio sulla linea il recupero del potere genuano rubinio dunque due volte nel giro in 10 secondi l'Empoli ha avuto la possibilità di passare in vantaggio ma il risultato non si ha scoccato è un lavoraggio è proprio un lavoraggio il tempo delle partite delle sedici inserite nella direzione scadina del l'autocalcio per i proversi lo scoccato del 45esimo questi parziali Cremonese Venezia 0 a 0 Striaritana 1 Sambini di difesa 0 Legnano e Foggia 0 a 0 Fonsa 0 Padua 1 Juve Stabia 1 1 a 0 Sorrenta Rizzo 0 a 0 Carina 1 Sambini di difesa